E' morto questa mattina a Palermo Biagio Conte, 59 anni, missionario laico, protagonista di numerose battaglie in difesa dei poveri e degli indigenti a Palermo, dove nel 1993 aveva fondato la missione Speranza e Carità. Era malato da tempo e in questi giorni si sono stretti a lui i volontari e gli ospiti della comunità che aveva fondato. Una vita spesa per gli ultimi, quella di Biagio Conte, che ha creato a Palermo e in provincia nove comunità. Figlio di imprenditori edili, a 16 anni abbandona la scuola e inizia a lavorare nell'impresa edile della sua famiglia, ma a causa di una profonda crisi spirituale decide di allontanarsi dalla famiglia nel 1983 andando a vivere a Firenze. Nel maggio del 1990 la scelta di vivere come eremita, ritirandosi nelle montagne dell'entroterra siciliano e successivamente facendo un viaggio interamente a piedi verso la città di Assisi. Torna a Palermo per salutare i familiari con l'intenzione di trasferirsi in Africa come missionario, ma lo stato di miseria in cui ritrova la sua città lo porta a cambiare idea. Negli anni Biagio Conte è venuto più volte nel Nisseno, a Caltanissetta in cattedrale dove ha dormito per terra e l'indomani andando a San Cataldo a piedi per essere accolto dall'arcivescovo Biancheri e pregare sulla tomba di Aldonaro. Anche il Presidente della Regione, Renato Schifani, ha lasciato un pensiero per il missionario di Cento. Ci ha ricordato come, per ogni cristiano, la carità sia una condizione essenziale della propria essenza umana e attuazione concreta della propria fede.